Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come ben sapete, la carissima nostra amica e famosa conduttrice delle Iene ci ha lasciato ieri il comune di Brescia ha allestito la camera a dentro al teatro Santa Chiara dove ci ha avuto. Quindi diciamo che anche la famiglia ha postato l'ultimo post su Twitter dicendo siamo forti della tua forza, sei un angelo in vita, ora sei libera e serena. Diciamo commovente saluto della famiglia che ha dato alla sua figlia, quindi tutti i familiari, tutti quanti hanno detto cara piccola, grande in aria, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Ciao, buonasera. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Quindi questo è il cordoglio che la famiglia ha messo sul post di Twitter, quindi tutti quanti lo possono andare a leggere. E oggi hanno fatto questa camera a dente nel diciamo a Brescia per dare un ultimo saluto a questa ragazza che dopo quasi due anni di malattia purtroppo aveva un tumore alla testa non ce l'ha fatta. Comunque rimane il fatto che ha dato diciamo serenità e coraggio a tante persone che combattono contro questo male e ha sempre fatto il suo impegno ultimamente per dare raccolta di fondi a favore del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale. Quindi buonasera, quindi diciamo che negli ultimi due anni di vita che ha avuto si è dato molto su questo tema che l'ha presa di prima persona. Quindi diciamo che una persona speciale che se ne va a 40 anni ragazzi, quindi non possiamo che mazzare le mani per l'amore di Dio, non si può dire nulla. Ha combattuto fino all'ultimo, ma però purtroppo come tutti ben sappiamo ragazzi questo è un male che non perdonano quasi mai. Quindi sì, 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 diciamo che fino all'ultima lei ha lavorato, quindi non ha mollato, ci ha creduto, però purtroppo ragazzi non ce l'ha fatta. Anche il vescovo infatti ha detto impondeva serenità e coraggio. Sì, 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 ho letto, guarda, io a volte ho trovato delle persone che scrivevano cose pazzesche su di lei, davvero non so come fanno a fare queste cose. Ho visto che a volte su Facebook l'attaccavano, dicevano quando te ne vai, queste cose così. Quindi io sto facendo, guarda, di buttare la chiave di giuro, non esiste proprio, io nemmeno il mio nemico più forte augurerei mai questo male, no, mai. Quindi non capisco perché si sono accaniti, ah hai fatto il libro perché così fai i soldi, quindi... Ve lo so, è tanto per dire, Tom Dill, che possiamo dire di questa gente. Ciao, grazie, ciao, Maria. Quindi diciamo che venerdì ci saranno i funerali, quindi domani è per agosto, e quindi non si potrà fare domani, come regola doveva essere fatta domani, però purtroppo ragazzi sappiamo che domani è per agosto e è saltato a venerdì il funerale in effetti, quindi il venerdì il 16 si tratta il funerale nel Duomo della città a Brescia. Sì, sicuramente hanno problemi con la testa, sicura, voglia. Quindi diciamo che le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi mesi, e già a luglio è ricordata alla Domus Salutis di Brescia, dove purtroppo lì si è spenta nelle prime ore del mattino di ieri. Quindi ragazzi, che possiamo dire di questa ragazza, ha dato tanto per la Iena che ha lavorato, io mi divertivo quando andavo a vedere, a scovare, sa, queste cose, però doveva andare così ragazzi. A volte credo che, come diceva pure lei, ognuno ha una sfida nella vita da fare, poi, dipende, la sfida c'è tra chi la vince e chi la perde, lei anche se l'ha persa, ha fatto vedere che nonostante ha perso, comunque l'ha combattuto fino all'ultimo. Quindi, diciamo, ha dato anche un esempio a tutte le persone che sono malate, che non si devono arrendere, devono combattere. tanto, prima o poi, come dico io, faremo tutti quanti la stessa fine, a volte anche io dico, purtroppo con tutte queste cose che ci sono, queste tecnologie nuove, medicine, cose che noi ingeriamo tutti i giorni, e così ragazzi, quindi, diciamo che tutti quanti, prima o poi, ci ammaleremo di questa brutta malattia, perché più anni passano e più vedo che la gente non muore più di vecchiaio, oppure normale, ma muore, diciamo, di questa malattia, che è la prima cosa che colpisce, diciamo, la persona. Ogni volta che io domando, ciao a macella, qualcuno, come è morto, mi dicono che aveva un tumore, non mi dicono mai diversamente, quindi a volte ti viene da pensare che purtroppo il 70-80% delle morti in tutto il mondo avviene per tumore, quindi, non per altre malattie, quindi è la malattia del secolo, quindi, che possiamo dire? che possa riposare, due anni erano, lei il 17 dicembre del 2017, mi pare. Dopo la blocco un attimo io, già ho visto il suo account falso, Alessia, già ho trovato l'account, non ti preoccupate. Sì, si è fatto bene, non ti preoccupate, ho trovato già io, come si dice, quello là falso. Pensa che c'è il profilo falso, ti dico solo questo, che tiene avvocatella, quattro iscritti e tiene a te. Già l'ho trovato, non ti preoccupare. Perché abbiamo visto che non sei tu, in effetti. Già abbiamo trovato qual è, però... Sì, sì, ma comunque, vabbè, al seno, queste cose qui, pure il mio amico, ad esempio, tanto tempo fa ha avuto un tumore al testicolo, ragazzi, sta bene, vive il vegeto, quindi, diciamo, poi dipende anche della gravità della situazione, quindi, diciamo, il tumore al seno, il tumore al testicolo, papà, ad esempio, ha avuto il tumore al labbro e sta bene, fortunatamente non ha avuto metastasi nulla, quindi, poi, dipende sempre della situazione, ragazzi. La testa è un po' difficile, come i polmoni, come il pancreas, qua non riesce a passare nulla, ragazzi. Quindi, io ho avuto un amico, ultimamente, che l'aveva fegato, ragazzi, non c'è stato santo. Al finale è andato un sacco di volte a Brescia, ma al finale ha lasciato due, tre figli, ha lasciato piccoli. Quindi, ragazzi, è una brutta bestia questo tumore, cancro, come lo vogliamo chiamare, carcinoma, c'è tanti nomi che, mi pare, come il diavolo, che si chiama Satano, Lucifero, così mi pare il tumore a me. C'è tanti nomi, proprio come il male, in effetti. Ragazzi, che possa riposare in pace la sua anima. Questo, come si dice, non è un addio, è un saluto, perché prima o poi ci ritroveremo tutti quanti là e che la terra la risieda lieve, ragazzi. Un saluto a tutti e speriamo che la sua anima possa riposare in pace. Ragazzi, ci sentiamo dopo. Sì, sì, anche gli ades, però, sono persone malate, questo posso dire io. Si attaccano a persone che stanno poco bene. Quindi, non posso, non hanno giudizio e basta. Ragazzi, vi saluto. E la sua anima possa riposare per sempre in pace. Sei stata una guerriera, che possiamo dire più. Niente, penso che abbiamo detto tutto. Vabbè, ciao Dometilla, ciao Avvocatella, ciao a tutti ragazzi. Ci sentiamo più tardi, sempre in un altro video farò. Oggi io volevo fare questo qua già da oggi, l'ho fatto stasera, perché volevo prendere più informazioni, quindi. Pensavo che domani facevano il funerario, invece lo faranno venerdì 16. Ragazzi, buon pomeriggio, buona serata, si può dire, già quasi. Mi faccio un po' di caffè e poi riprendo se mai con 4 video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Marcella, ciao Avvocatella, ciao a tutti.